passiamoci in piedi perché è un momento molto emozionante vieni oggi sui campi di Italia Carlo Mazzone che ne ha omaggiato per un minuto di raccoglimento per noi però è un'emozione che merita un ricordo speciale Carlo Mazzone amava Roma, internava perfettamente lo spirito romanista è stato semplicemente uno di voi, addio mister grazie mister, forza Roma grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.